Effettuato dalla Prefettura in accordo con l'assessorato delle politiche sociali della provincia di Lecce un monitoraggio sul grado di diffusione del disagio vissuto dagli adolescenti qualora fanno uso delle sostanze stupefacenti e quindi tale disagio rappresenta un vero e proprio freno allo sviluppo della coesione sociale. Attraverso questo monitoraggio è stato poi presentato un manuale, un manuale d'uso direi perché consente di utilizzare tutti i dati ottenuti in seguito ai colloqui motivazionali che i ragazzi fanno presso la Prefettura qualora vengono trovati, in senso dell'articolo 75 della legge 309 in possesso di sostanze stupefacenti e proprio attraverso tali colloqui motivazionali si è voluto raccogliere una serie di altri dati per comprendere qual è la fonte del disagio e quali possono essere gli eventuali rimedi. Noi come provincia abbiamo un ruolo importantissimo che è quello di governance delle politiche sociali coordiniamo e coprogettiamo tutti i piani di zona assieme agli ambiti devo dire che quest'anno sono state previste risorse per l'educativa domiciliare che è un servizio utile proprio per rieducare e intervenire sui minori e sulle famiglie noi tra l'altro abbiamo altri strumenti, come ad esempio il centro risorse per la famiglia che è uno strumento importantissimo proprio per intervenire sui nuclei familiari laddove sorgono criticità di questo tipo e si interviene in realtà più che altro con azioni di supporto per i genitori perché è immerso anche questo dato dal monitoraggio che spesso questi disagi derivano da uno scollamento che i figli hanno con la famiglia d'origine quindi tutte le azioni di supporto e sostegno per la famiglia sono delle azioni utilissime altri strumenti che noi abbiamo come provincia sono l'osservatorio provinciale sulle politiche sociali attraverso il quale monitoriamo quelli che sono i bisogni e nel caso di specie quindi potremmo pensare ad obiettivi che vanno ad intersecarsi con quelli previsti dal monitoraggio e altro strumento importante è il piano di formazione sociale infatti nei moduli presentati alla regione abbiamo previsto anche un modulo dove si parla di formazione per gli educatori che andranno poi ad effettuare l'intervento di livello viciliare altri strumenti utili sono poi le attività che noi facciamo con il servizio, con il segretariato sociale con le nostre assistenti sociali presso i centri per l'impiego mi riferisco a tutte le attività relative all'inclusione sociale, le borse lavoro quindi un'attività svolta dall'ente provincia a 360 gradi che si muove proprio nella direzione di voler intervenire mentre si ravvisano disagi inerenti agli adolescenti qualora fanno uso di sostanze stupefacenti e non solo perché poi dal monitoraggio è venuto fuori che spesso l'utilizzo di sostanze è accompagnato dall'utilizzo di sostanze alcoliche e...